Il Flatec è un morsetto realizzato dalla ditta Stonfo, una ditta italiana di Firenze, prodotto di alta tecnologia, realizzato con materiali di prima qualità, acciaio inox, acciai temperati, bronzo e alluminio. Questo morsetto è fornito di accessorio per la costruzione in linea, accessorio parasciutte, tre teste intercambiabili, una chiavetta e una molla per ferma materiali, nonché un puntatore che serve per l'allineamento del lama. La base ha piedini antiscivolo che la rendono molto stabile nell'utilizzo, ha un cilindro allungato che serve per la regolazione in altezza dell'asta. Il bloccaggio dell'asta avviene tramite una chiavetta inserita nell'apposito foro in maniera da serrarla in maniera stabile. L'asse portacilindro è realizzato in un unico pezzo in acciaio inox, ruota su cuscinetti e ha la possibilità di una rotazione libera, frizionata sulle varie posizioni tramite sempre la vite di registro, con punti di blocco, uno sulla posizione 0 e l'altra sulla posizione a 180 gradi. Un apposito centratore fornito di corredo al morsetto aiuterà a allineare esattamente l'amo sull'asse dell'albero. Il serraggio del lamo avviene semplicemente con la rotazione del volantino posteriore. Allo stesso tempo, con l'utilizzo del centratore, io allineo l'amo in maniera che questo arrivi sull'asse di rotazione. L'intercambio delle teste è semplicissimo, basta rotare il volantino, svitare il volantino ed estrarre la testa, intercambiandola con quella che necessita. Fare attenzione a che la testa venga inserita nell'apposita scanalatura che c'è sul cilindro. Togliendo l'asta di sostegno del bobinatore e invertendola, si può così ottenere un sostegno per l'accessorio parasciutto. Si inserisce a questo punto il piccolo accessorio a molla, regolandola in altezza. E così abbiamo a disposizione anche un strumento che serve per la costruzione delle nostre mosche in parasciutto. Sempre su questo morsetto possono essere montati altri accessori sempre realizzati dalla ditta a stonfo, come la vaschetta a raccogli sporco, la lente di ingrandimento, lo schermo di contrasto e l'accessorio per le tube fly. Questo morsetto è distribuito dalla ditta a stonfo in tutto il mondo e lo potete trovare nei migliori negozi di artiglione per la pesca. Grazie a tutti.